Che fuoriclasse! I campioni di categoria sono già pronti per nuove sfide pazzesche. Chi da piccolo inseguiva un pallone e un sogno è adesso una star di un calcio che regala ad ogni turno nuova magia. In scena della novità del ritorno di Bellei, il Dragona si prepara, vola verso Cere con la sua bocca di fuoco magrelli e le sue ali spiegate per fiammeggiare verso il successo e guarda in alto l'Ara Nova per intonare un'area di trionfo nell'area del Real Portuense. Nel girone F, l'Airona Ardea punta a beccare i tre punti interni contro il Trascati. Non sarà una passeggiata per il Città di Pomezza in trasferta, certo, ma col Certosa l'auspicio è vincere. Che campioni in seconda! Top player in direzione Giulianello. Nel Tor Vajanica, Aquilani, Ciccolini e San Marco cercano il tiro effetto per un drive shoot da prima classe. E prime firme anche all'Anuvio. Il Tor San Lorenzo di Cesarini tira fuori il tiro e gli occhi della Tigre per lanciarsi in alto. Idem a Campoverde, contro il Doganella l'obiettivo è vincere. I supermatch proseguono in terza, secondo derby di fila per l'Erclima di Garzia. Dopo la fanciulla c'è il Creta Rossa, riduce dalla stracittadina con lo Sporting Nettuno, che torna in casa contro l'Enea. Sfide epiche, sfide chic, come tra Clembo Fal e Real Zabaulia. Non può mancare il Monte Giordano, che sale sui colli albani per salire con sogni e piani da promozione. Quello di categoria è un mix di emozione, grande calcio e talento. Non mancate al prossimo appuntamento, tra sette giorni, ancora qui in diretta TV su Pontina Calcio Show. Grazie a tutti.